ben trovati amici dei termofischioni sono tutto stravolto cosa c'ho oggi sono qua oggi con una nuova inquadratura per portarvi i video della mia cupe aspetta one up e del super gearbox da cosa partiamo da cosa partiamo partiamo dal dal one up perché primo one uuuh allora allora partiamo dalla maglia dalla maglia di guarda qua eh ti piace la maglia di jack skellington e daryl c'è anche pacman lì a tema penso halloweenesco scorso molto bella questa è bella veramente carina la metto la poi 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 un drbz di jack skellington guardate quanto è bellino questo è bellissimo lo metto qua lo vedete non lo vedete fa niente un braccialetto di the walking dead si vede si vede si vede guarda sono proprio una make up artist il braccialetto di the walking dead che vado a mettere eccolo qui eccolo qui ma che bellino il braccialettino di the walking dead me lo tengo poi cosa c'è qua dentro questo credo sia un apri bottiglia un apri bottiglia di pacman molto simpatico molto carino e perché no questo lo metto un fantasmino di super mario un adesivo un adesivo di super mario che poi attaccherò magari qua qui un legno qua poi finito ma c'è la bustina che mi diceva a me fosforescente il cosino di super mario e la spilla di del one up con cos'è niente un sacchiotto dentro la scatola dentro una scatola dietro psichiatri ho solo un bambino un bambino niente il one up l'abbiamo ottenuto e lo mettiamo ma andiamo col super geek box maglietta anche qua la maglietta è questa ma che bella è questa ha un feeling con le faccine di jack skellington and è bellina questa la metto sicuramente in un prossimo video questa la metto che bellina che è grazie one up scusami super geek box perdono poi andiamo subito a prendere altre cose interessanti come questo al contrario no cos'è sì è un pupazzino di quelli con la testa grossa di uno della dc vediamo chi mi capita sicuramente mi capiterà arrow e invece e invece non c'era nemmeno arrow perfetto ho due facce e due facce aspetta che lo costruisco fammelo deliberare la capocchia fammi avvicinare cascato tutto eccolo qui due facce eh che carino questo poi un cappellino un cappellino di pacman che vado a mettere immediatamente proprio sono sono pacman mamma mia sono proprio un io broda broda io cosa sto facendo i massaggi poi abbiamo qui delle calze che però non ho capito di cosa sono aspettami che calze sono una parolaccia che calze sono cos'è cosa sono è qualcosa che c'è sangue sicuramente sangue vabbè grazie alla faccine di jack skellington di nuovo come la maglietta bellissima perché io l'alto d'oro jack skellington e poi c'è qui una cosa che mi era sfuggita il pistolino sempre il fantasmino che ormai in questo box è stato ricorrente che il fantasmino molto carino simil blockbuster ho detto blockbuster veramente il coso di ghostbuster che blockbuster niente grazie per avermelo messo dentro lo metterò anche questo in posti magici e poi la spilletta che c'è ancora il fantasmino credo sia l'ombra ancora dove l'ombra del fantasmino con un'onda onde sulle sponde dei tuoi fianchi abbronzati attaccati a me le foto delle signorine e dei signorini che fanno questa era bevuto era alcolizzata quando ho fatto la foto niente grazie mille ancora per aver seguito questo box perché ancora la prima volta che vi ringrazio grazie una volta per questo cappello il braccialetto di the walking dead che userò per sempre in tutta la mia vita mi raccomando seguiteci live su twitch sono luca dirisio niente chiudo il video che ormai starete facendo già 700 gif quindi ciao ciao